Ciao fanciulle, bacione per tutte, questo è un video brevissimo soltanto di informazione, praticamente è nato il mio nuovo blog, se magari vi va di voler dare un'occhiata, di seguirmi, mi farebbe molto piacere, ci sono soltanto due post al momento, ma conto di aggiornarlo periodicamente e di dedicarlo a più argomenti comunque, che siano le mie matefilofox, che sia il make up, che siano acquisti, che siano review e quant'altro, se avete ovviamente anche, non so, vuoi qualche idea da darmi, è ben accetta, vi lascio qui sotto il link del mio blog, un bacio!